Il mio canale deve sempre stupire, no? Benissimo. Allora qualcuno ha cominciato a fare del... come si chiamano? Gli anagrammi del mio nome, no? Spectro, Spectro... E' uscito fuori gli Spectristi, cioè io intendevo quelli che stanno sul canale di Spectro, ma qualcuno ha detto, ma Spectristi, Spectristi, io avevo uno Spectrum, io avevo uno Spectrum. Signori, vi presento la mia collezione dei famosi computer della Sinclair, tutta la collezione Sinclair. E' sicuramente una delle collezioni più completa d'Italia, per quanto riguarda la Sinclair. Facciamo una rapida carrellata e vi faccio un po' di storia del computer. Partiamo da lui, ZX80, un K RAM, 4K ROM. Un K, non un Mega, eh ragazzi. Un K, era un... monta uno Z80 come microprocessore e veramente la tastiera non ce l'ha, è tutto a sensori. Si attaccava alla TV ed era il primo computer, secondo Sir Clive Sinclair, che doveva entrare in tutte le case. Eccolo qua, immacolato, bellissimo. Un pezzo rarissimo, 1979 circa, fine 79. Per questo si chiama ZX80. Pezzo molto bello e molto raro. Seconda posizione, abbiamo lo ZX81. Questa qua dietro è una espansione di RAM, come potete vedere. Vediamo se riesco a inquadrarla, no. Comunque, 16K. Questo originariamente era sempre computer con lo Z80. dentro, il microprocessore della Zilog, Zilog come dir si voglia, sempre tastierino a sfioramento, feature connector, con... Pensate che questo computer salvava sui registratori H7, cioè aveva le porte ERMIC. Molto molto interessanti. E arriviamo fino alla leggenda della Sinclair, la leggenda dello ZX Spectrum. Questo è il microdrive dello Spectrum. Praticamente usava delle cassettine senza fine, tipo i vecchi stereo 8. Qui c'è il Feature connector. Questo è lo Spectrum, ZX Spectrum, da cui io, ovviamente, deriva il mio NIC. Spectro. Eccolo qua, Sinclair. E questa è la ZX Printer, collegata sempre, era tutto un kit per lo Spectrum. Questa ZX Printer è carta termica. C'era un ago che girava, con una cosa che girava, con una, come si chiama, un nastro, chiamiamolo così, e stampava bianco e nero perché bruciava la carta. Dopodiché andiamo alle variazioni che ci sono state. C'era lo ZX Spectrum Plus, eccolo qui. ZX Spectrum Plus che aveva la prima tastiera, ma l'interno è uguale. Poi c'era lo Spectrum 128K. Parliamo di K, ragazzi. E le variazioni, ve le dico dopo perché sono nate dopo, di questi computer. Perché prima di questi computer fu il primo 32-bit, il primo 32-bit della storia. Il Quell, Sinclair Quell. Il primo computer che Sinclair voleva, in qualche modo, destinare alle aziende. Molto molto bello, anche questo è un pezzo bellissimo, 128K di RAM e due microdrive, ma erano molto poco, come vi devo dire, ci salvavi dati, dopo un po' si cancellavano. Insomma, non era affidabile, ecco perché non ebbe successo, e fu proprio il cappio al collo di Sir Clive Sinclair. Io colleziono tra i Sinclair anche i clone, cioè i clone, che questo è un Timex 1500, usciva con un altro nome dell'azienda, però tecnicamente era come una ZX81. Questo è un clone americano, si chiama Timex Sinclair, è una joint venture probabilmente. Calcolate che la maggior parte dei Sinclair veniva costruita in Spagna, dalla Investtronica. Poi abbiamo questo qui, che è la copia dello Spectrum, però è cileno. Questa è la copia dello Spectrum cileno, si chiama Timex 2048. L'ho comprato in Cile, molto molto interessante questo qui, perché ha, contrariamente del buzzer, il buzzer era un emettitore di suono monofonico dello Spectrum. Il 2048, versione cilena, aveva tre generatori sonori, più uno di rumore, come il Commodore 64. Abbiamo la stampante, perché poi altre case hanno cominciato a costruire altre periferiche per questi computer. Questa è la stampante Alphacom 32. E la famosa pistola, chiamiamola così, la pistola, quella che si sparava al televisore, qua dentro c'è una fotocellula, calcolate che i televisori di prima avevano un refresh, c'era un refresh, praticamente che questa fotocellula calcolava a livello software, calcolava il refresh di questo pennello del televisore e sapeva se avevi sparato bene o male. Qui dietro troviamo la prima Music Machine, questa è proprio mia, non l'ho comprata dopo, questa era proprio la mia, dove io sviluppai dei software midi, risale al 1983 questa scheda, molto molto interessante, tre generatori sonori e campionava, questo era già il primo campionatore. Qua abbiamo sempre per lo Spectrum, queste sono tutte periferiche per lo Spectrum, questo è il famoso Cura Microspeach, cioè praticamente un sintetizzatore parlante per lo Spectrum, per lo ZX Spectrum, molto interessante. Qua abbiamo altre periferiche, che sono periferiche joystick, ma la chicca veramente grande ce l'abbiamo qui, perché Sinclair, se non vale rato nel 78-79, inventò questo televisore, voi direte sì, ma un televisore normalissimo LCD, peccato che gli LCD al tempo non c'erano, questo è un televisore a tubo catodico, che Sinclair mise il tubo catodico, lo mise di fianco qui e fece una specie di L per praticamente sfruttare, perché voi sapete che i televisori a tubo catodico avevano la profondità, erano molto profondi, non erano piatti. Calcolate che questo è un televisorino proprio dei primi anni 70, dovrebbe essere 70, non ricordo bene, però è molto molto vecchio, ed è a tubo catodico, portatile, tubo catodico estremamente piccolo, calcolate che gli altri televisori erano molto più grandi per via appunto del tubo catodico. Voglio aprirvelo questo qui, voglio aprirvelo perché, scusate ma sto con una mano sola, perché sull'altra ho il telefono, e voglio aprirvelo perché, perché questo qua è rarissimo, questi sono i primi orologi, i primi orologi che praticamente, vedete, sono orologi che c'erano praticamente i led russi della Sinclair, ancora in scatola, ovviamente il cinturino si è un po' rovinato per l'età, perché questo è un orologio che se non vado errato dovrebbe essere i primi del 78-79, se non vado errato. Per cui Sinclair è stato un grande precursore dei tempi con le sue macchine, con i suoi apparecchi, e ha dato praticamente alla luce la maggior parte dei programmatori che poi hanno fatto la loro carriera. E qui abbiamo, vi faccio un grand'angolo di tutta la collezione, qui abbiamo un grand'angolo di tutta la collezione che ho, che state guardando praticamente un pezzo di storia, un pezzo di storia della Sinclair, e vorrei farvi vedere anche un'altra cosa, praticamente Sinclair mi scrisse una lettera, mi scrisse una lettera, adesso io non riesco a inquadrarla bene, comunque, ecco qui, questa è la collezione Sinclair, abbiamo visto un pezzo di storia, Sinclair mi scrisse questa lettera, dove mi diceva che mi faceva gli auguri per la mia collezione, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, come potete vedere, ho anche un grandissimo pezzo di storia. Antagonisti di questi computer, ovviamente, erano i Commodore, in quel caso erano i Commodore 16, i Vick 20, i Commodore 64, e tutti gli altri computer che c'erano all'epoca, quindi parliamo degli anni Ottanta. Sperando di aver fatto cosa gradita, vi lascio con questa meravigliosa immagine a cui io sono molto, molto affezionato. Grazie a tutti.